aggiornamento questo video è stato girato alle 4 e 30 anzi 33 del mattino il fuoco nella lingua principale sta scendendo sempre di più perché ha trovato alimento oltre del vento dai bellissimi alberi spesso sono guerce secolari va bene vi ricordo che molto probabilmente tutto di questa violenza la natura è stato dato dai soliti ben pensanti quegli imbecilli che accendono i fuochi per le potature e poi non spengono appunto e non controllano il fuoco perché con il vento basta un po di cenere calda e tutto riparte questo purtroppo lo dobbiamo agli ignoranti veramente gli ignoranti che stanno devastando la nostra natura e mettono in pericolo le case dei cittadini ora la distanza da fonte baiano è ancora evidente per fortuna si sentono strillare tanti animali questo ve lo posso assicurare che ho incontrato dei cinghiali che correvano ci sono dei caprioli altri questa è la prima lingua quella più importante di fuoco ci sono altri vedete anche giù in fondo quella è la zona alta di colle monsignore sotto questa lingua di fuoco c'è una piana un terreno fatto di erba purtroppo setta perché non piove da tempo e poi c'è la risalita verso fonte baiano dalla parte più alta appunto del quartiere terramano vi saluto per i prossimi aggiornamenti grazie a tutti